Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Gabriel Garco, l'incidente domestico ed il video pubblicato su social Ecco cosa è successo e qual è il messaggio dell'attore.Nel mondo dello spettacolo sono in pochi gli attori che hanno saputo costruire una fan base così nutrita come fatto da Gabriel Garco nel corso della sua carriera Quasi impossibile non aver visto nemmeno una volta l'attore siciliano alle prese con qualche lavoro a livello televisivo o cinematografico In questi anni il pubblico si è affezionato sempre di più a questo attore, e non soltanto per quanto riguarda le sue peculiarità in ambito attoriale Gabriel Garco. Di Gabriel si è parlato tanto anche per quanto riguarda la sua vita privata In molti ricorderanno un momento cruciale nella sua vita, quando in diretta al grande fratello Vip decise di fare outing Di fronte a lui a Dua del Vesco, con la quale Gabriel ebbe anche una storia d'amore, ed un gesto di grande coraggio che ovviamente attirò ancora di più un pubblico che ha potuto ammirare la bellezza di un uomo che apre il suo cuore di fronte a milioni di persone E così Gabriel da quel momento si è tolto un peso, e di fatto la sua vita è cambiata radicalmente Ora sull'attore ci sono gli occhi costanti dei media, non che prima non ci fossero, e tutti sono curiosi di conoscere chi c'è oggi nel cuore di Gabriel Lui ha svelato qualcosina nel corso degli scorsi mesi, anche se non ha fatto nomi e non è voluto entrare nel dettaglio Sappiamo che c'è un uomo nella vita di Garco, anche se non sappiamo chi è Tutto è volutamente rimasto in un segreto, anche per Gabriel ha lasciato capire chiaramente di voler vivere i propri sentimenti lontano dalle telecamere Almeno per il momento.Gabriel Garco, sui social il messaggio e l'incidente domestico Da qualche tempo Gabriel utilizza in maniera costante primo suoi social La sua volontà è quella di tenere vivo il rapporto con i suoi fan, andando a pubblicare tante cose che riguardano soprattutto la sua vita privata Certo, tralasciando l'aspetto sentimentale sul quale Garco non ha mai esporsi, ed anche sui social in questo senso i contenuti sono molto scanni L'attore, però, non dimentica di pubblicare anche foto e video divertenti Stories di Gabriel Garco E così Gabriel ha pubblicato un video che mostra una donna apparentemente in bagno, intenta a mostrare i suoi stivali alla telecamere Il tutto finisce male, con la ragazza che cade rovinosamente a terra Un incidente domestico, diventato un divertente meme E Garco ha svelato un aspetto particolare riguardo questo video, cioè io non posso smettere di vederlo, le parole dell'attore visibilmente divertito Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video